Musica Salve e benvenuti di nuovo a I.V. Virgo, questo impianto per il rilevamento delle onde gravitazionali l'impianto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare italiano e abbiamo qui ancora il professor Carlo Bradaschia che ci spiegherà questa volta alcuni dettagli tecnici molto interessanti del funzionamento dell'interferometro qui a Cascina Bene, professore, il rilevamento delle onde gravitazionali viene effettuato tramite, abbiamo detto, un'apparecchiatura fondamentalmente laser che va a rilevare l'interferenza di quelle laser che percorrono ognuno di quali tre chilometri e si riuniscono insieme Per la costruzione di questo impianto e per la sua progettazione sono state messe insieme delle competenze che sono di varie nazionalità soprattutto in questo caso italiana e francese. Qual è l'apporto italiano con questo impianto? L'apporto italiano è innanzitutto il concepimento della struttura dell'impianto che è stato dovuto a un fisico di Pisa, Alberto Giazzotto, che già negli anni Ottanta aveva cominciato a studiare questi problemati e da un punto di vista realmente costruttivo l'apporto italiano è stato soprattutto la progettazione e la realizzazione di questi giganteschi isolatori sismici qui vedete un modello che risale al 1987, questo mi dà un'idea di per quanti anni abbiamo sviluppato questa meccanica di precisione per riuscire a ottenere quale risultato. Una struttura di questo tipo serve per sostenere uno dei nostri spetti ciascuno dei nostri spetti in modo da isolarlo dalle migrazioni del terreno. In questo prototipo lo specchio è rappresentato da questo disco di alluminio, mentre nella realtà è un disco più o meno di quelle dimensioni ma di guazzo sintetico ultrapure. Quindi noi abbiamo progettato e sviluppato anche trattamenti speciali per metalli in modo da ottenere delle prestazioni meccaniche molto al di sopra di quelle che vengono utilizzate normalmente e questi sviluppi li abbiamo fatti in collaborazione sia con la Facoltà di Ingegneria di Pisa sia con diverse industrie meccaniche della nostra zona. Quindi è molto interessante il fatto che le industrie meccaniche locali, avendo sviluppato insieme a noi e quindi ha preso nuove tecniche per l'uso di nuovi materiali, trattamenti speciali da fare sui materiali o sui pezzi già costruiti, le industrie quindi sono in grado di utilizzare questo know-how aggiuntivo per la loro produzione e anche per tutti gli altri scopi. Quindi questo è uno dei risultati che offre la scienza per il vivere comune di noi tutti e in questo caso qui in Italia per le industrie meccaniche appunto perché la scienza dovendosi spingere a livelli tecnici estremi per arrivare in questo caso delle onde gravitazionali estremamente piccole e quindi offrono alle industrie un'occasione per fare ricerca, per avere know-how e quindi per produrre cose che poi a noi miglioreranno anche la vita di tutti i giorni, un po' come lo sviluppo per esempio degli smartphone attuali che è permesso grazie a delle problematiche che vengono dai viaggi spaziali e così via. Bene, qui abbiamo un modello molto piccolo perché nella realtà abbiamo detto che queste braccia dell'impianto poi le vedremo sono lunghe ben tre chilometri. Allora qui abbiamo una fonte del laser e il laser invece è di produzione francese quindi diciamo detta così semplicemente i francesi erano molto forti molto avanti sul campo laser noi invece eravamo molto bravi ad isolare gli specchi dagli eventi diciamo del terreno esterno. Sì, molto schematicamente la suddivisione è di questo tipo. Poi naturalmente c'è dei grandi sviluppi per sistemi elettronici di controllo che possono consentire appunto di verificare il comportamento del laser da un punto di vista della stabilità in frequenza e della stabilità in potenza regolare anche, controllare molto accuratamente l'ultra-alto vuoto che c'è nei due tubi di tre chilometri in cui si propaga il fascio del laser e poi naturalmente sviluppare tutti i programmi di analisi che servono per riuscire a discernere dalla grande quantità di dati segnali molto ampi che vengono registrati dai nostri fotodiodi e dentro riuscire a scavare e riconoscere gli eventuali segnali dovuti a vere onde gravitazionali e non a quelli che noi chiamiamo rumori esterni. Ecco perché poi appunto i problemi, tantissimi problemi tecnici che si sono dovuti affrontare per realizzare un'apparecchiatura del genere, un pianto del genere e tra l'altro fare un upgrade che ancora in corso sta appunto verso la metà di quest'anno del 2016 sono dovute all'estrema sensibilità che deve avere la misura quindi, come diceva, in questi tubi in cui passano i laser qui deve essere creato un vuoto quasi assoluto praticamente e quindi anche questo vuoto deve essere controllato perché se ci fosse particelle di aria potrebbero interferire con il laser e quindi con la misura dato che le misure che vengono effettuate sono dell'ordine di una piccola frazione di una piccola frazione del nucleo di un atomo. Sì sì, è vero, come abbiamo già detto prima l'effetto delle onde gravitazionali è di allungare e accorciare alternativamente i due bracci dell'interferometro ma di quantità estremamente piccola, pensate che i due bracci di tre chilometri vengono allungati e accorciati di un miliardesimo di miliardesimo di metro quindi una quantità estremamente piccola come è stato appena detto e quindi anche la superficie degli specchi deve essere perfettamente levigata perfettamente levigata a livello di qualche decina di nanometri vale a dire qualche decina di miliardesimi di metro per fare in modo appunto che i due fasci di luce possano andare avanti e indietro molte volte alcune centinaia di volte facendo sempre esattamente lo stesso percorso. Qui abbiamo uno degli specchi, anzi uno degli specchi che erano montati prima dell'inizio dell'upgrade dell'impianto ed è analogo a quelli che sono montati in questo momento solo che è leggermente più piccolo però è lo stesso specchio sostanzialmente. Questi specchi abbiamo detto che riflettono la luce laser, una luce laser di un certo colore quindi di una singola frequenza per poter poi verificare che questa frequenza sia corrispondente tra i laser di ritorno. Ma quali sono i problemi tecnici di costruzione di uno specchio del genere? Per farvi capire io vi racconterò la storia di uno di questi specchi. La storia inizia in una impresa in Germania che produce del quarzo sintetico ultrapuro che viene fuso e colato all'interno di una forma. Immaginatevi una forma tipo delle dimensioni di una forma di parmigiano come dimensione. viene colato fuso lì dentro e viene lasciato raffreddare in un mese o più. Perché un raffreddamento così lento? Perché in questo modo si evita che si formino tutte le tensioni interne del blocco di quarzo che quindi produrrebbero quella che viene chiamata birifrangenza della luce e quindi perturberebbero la geometria dei fasci laser che si devono riflettere sulle superfici di questi specchi. Perché questo specchio è trasparente e io mi ostino a chiamarlo specchio? Perché è trasparente per la luce visibile, quindi noi lo vediamo perfettamente trasparente. Viceversa è perfettamente riflettente per la luce infrarossa del laser che ha una lunghezza d'onda circa una volta e mezzo quella della luce rossa per esempio e quindi per noi è invisibile ma per i nostri sensori ovviamente è perfettamente visibile. Una volta ottenuta questo disco di quarzo sintetico il disco di quarzo sintetico viene inviato a una ditta negli Stati Uniti o a un'altra in Australia che sono le due ditte che sanno fare la levigatura delle facce degli specchi con la massima precisione oggi disponibile. Si arriva ad avere un controllo delle asperità della superficie dello specchio a livello di pochi strati molecolari mediante quello che viene chiamato ion milling, una fresatura con un fascio di ioni che porta via pochi gruppi di atomi alla volta. Fatto questo lo specchio imballato perfettamente preferibilmente sottovuoto viene inviato finalmente al nostro laboratorio di Lione. Il nostro laboratorio di Lione è il laboratorio migliore al mondo per depositare sottovuoto sulle facce di questi specchi gli strati riflettenti che serviranno appunto come abbiamo detto prima per riflettere la luce del nostro laser. Una prova dell'eccellenza di questo metodo di deposizione degli strati riflettenti viene dal fatto che anche per il progetto LIGO gli strati riflettenti degli specchi sono stati fatti dal nostro laboratorio di Lione. Quindi anche negli Stati Uniti utilizzano gli stessi specchi tanto avanzati. Abbiamo detto però che questi specchi poi sono montati su un supporto che adesso qui non c'è in questo momento ma serve appunto per evitare e compensare i movimenti tellurici. Quindi proprio perché abbiamo bisogno di una precisione assoluta abbiamo gli specchi migliori del mondo possiamo dire e abbiamo anche il sistema di compensazione tellurica più preciso del mondo che è stato appunto sviluppato in Italia. Dunque un sistema di questo genere cioè un interferometro in teoria avrebbe bisogno soltanto di un singolo laser che viene bipartito questi laser tornano indietro e poi si va a misurare semplicemente l'interferenza tra i ritorni dei laser. Ma questo sistema come è costruito in questo momento è molto più sensibile. Quali sono diciamo gli accorgimenti che avete usato per renderlo ancora più sensibile di quello che in teoria potrebbe essere? Dunque gli accorgimenti che abbiamo utilizzato sono diversi. Se per esempio ci riferiamo a quel modellino che abbiamo visto nell'ingresso dell'edificio principale comunque anche quel modellino è un sistema che è sensibile a variazioni delle lunghezze dei suoi bracci a livello di un decimo di micron. Quindi un interferometro di questo tipo è comunque intrinsecamente uno strumento estremamente sensibile. Praticamente quasi un giocattolo ma comunque molto molto sensibile. Molto molto sensibile. Tant'è vero che su quel modellino basta toccare leggermente con un dito il coperchio e si vede immediatamente la figura di interferenza che trema. Nel caso reale di Virgo cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto isolato perfettamente gli spetti dal rumore sismico quindi i nostri specchi non sono appoggiati su un banco ottico in un laboratorio di ottica ma sono sospesi a quelle gigantesche catene di pendoli alte 12 metri che servono per impedire alle vibrazioni sismiche sempre presenti sul terreno di raggiungere i nostri specchi se non attenuate di 10 alla 14, 10 alla 16 volte quindi diventate tollerabili. Milioni di milioni di volte. Milioni di milioni di volte. Perché sappiamo che noi normalmente diciamo c'è stato un terremoto quando come misura tellurica andiamo oltre un ordine minimo diciamo in cui può essere sensibile o quantomeno comunicato alla popolazione in genere vengono pubblicati per esempio gli eventi sismici superiori ai 2 gradi mentre tutti quelli che sono strumentalmente sensibili non si comunicano e avvengono in continuazione quindi uno strumento del genere chiaramente sarebbe continuamente sollecitato da movimenti tellurici e anche gli eventi camion, aerei che passano. Certamente in questo momento il pavimento di questo edificio o il terreno qui all'esterno vibra con un'ampiezza però per noi impercettibile di circa un micron a frequenze che vanno da un decimo di hertz a qualche decina di hertz e questo per noi è del tutto impercettibile ma per i nostri specchi è una quantità enorme perché un micron è un milione di milioni di volte più grande degli spostamenti degli specchi causati dalle onde gravitazionali però appunto mediante queste catene di pendoli questi isolatori sismici che noi chiamiamo superattenuatori i nostri specchi sono perfettamente fra virgolette fermi. Allora il modello che abbiamo visto che siamo praticamente 30 anni fa che abbiamo visto qui ad ingresso davanti al modellino uno dei modellini dei laser è appunto un modello superato quindi non è quello che viene attualmente utilizzato qual è la differenza tra i due modelli su cui in Italia si è lavorato tanto appunto in Italia in particolare a Pisa e la differenza fra i primi prototipi dell'87-88 in cui l'elasticità verticale era data dalla compressione e dilatazione di grossi contenitori pieni di gas compresso mentre adesso l'elasticità verticale è data da delle molle a lama tipo molle alla cui punta è attaccato il filo che sostiene la massa successiva sotto alla quale ci sono altre molle a lama alla cui punta è attaccato il filo che sostiene la massa successiva e così via fino ad arrivare agli spetti. Praticamente come le, diciamo, le vecchie sospensioni delle auto in pratica Sì, funzionamentazioni solo che invece di avere un livello di balestra come nelle automobili noi abbiamo 6, 7, 8 livelli di balestra e poi balestre estremamente sofisticate per cui otteniamo l'isolamento che ci serve Quindi abbiamo un isolamento meccanico che intuitivamente, diciamo, può sembrare primitivo rispetto ad altri sistemi più compressi che poi in verità si è rivelato molto più efficiente Certo, e anche perché noi non abbiamo usato lo stesso tipo di acciaio che viene usato per le balestre, per le sospensioni dell'automobile ma abbiamo usato un acciaio che si chiama Maraging che è un acciaio che è stato sviluppato per l'industria aeronautica e spaziale Per questo acciaio noi abbiamo messo a punto dei trattamenti termici che lo rendono ancora con prestazioni superiori a quelle normali per lui Dunque, abbiamo detto quindi che l'interferometro è una sorgente laser uno specchio che rifrange il laser i due laser fanno 3 km e poi tornano indietro e vengono rilevati da dei diodi che fanno da monitor di quello che succede e quindi qui negli strumenti in questo momento tuttora vengono rilevate le interferenze e quindi dedotti poi eventualmente di eventi che possono aver causato queste interferenze se poi è eventualmente un'onda gravitazionale Però questa è la spiegazione basata un po' sul modellino Nel mondo reale, cioè nell'apparecchio che effettivamente è in funzione in questo momento non ci sono soltanto questi specchi No, nell'apparecchio reale usiamo diversi trucchi, diciamo che servono per migliorare la sensibilità Primo di tutto c'è il fatto che il fascio del laser su ogni braccio va avanti e indietro alcune centinaia di volte 3 km, quindi percorre 3 km moltiplicato 100 quindi 300 km più 300 indietro, quindi fanno 600 km avanti e indietro e prima di ricombinarsi con il fascio laser che ha subito lo stesso trattamento sull'altro braccio ricombinarsi e fare interferenza In questo modo lo sfasamento prodotto sul fascio del laser dall'allungamento o accorciamento del braccio viene moltiplicato per il numero di volte che il fascio del laser va avanti e indietro quindi in questo modo amplifichiamo il segnale di qualche centinaio di volte Inoltre la configurazione del nostro interferometro è tale che della luce che il laser inietta nell'interferometro praticamente niente viene assorbito dico niente nel senso che ne viene assorbito qualche decina di parti per milione quindi una piccolissima frazione e tutta la luce quindi torna indietro verso il laser che l'aveva iniettata A questo punto noi ci siamo detti perché sprecare questa luce e rimandarla indietro verso il laser Mettiamo un altro specchio parzialmente riflettente fra l'interferometro e il laser in modo che la luce che ritornerebbe al laser viene riflessa nuovamente verso l'interferometro In questo modo noi costruiamo quella che tecnicamente viene chiamata una cavità ottica resonante costituita all'ingresso da questo nuovo specchio di cui sto parlando e all'uscita diciamo dall'interferometro nel suo complesso In questo modo moltiplichiamo artificialmente la potenza del laser Noi abbiamo laser che oggi hanno potenze che vanno fra i 100 e i 200 watt che è potenza che viene moltiplicata per 50-100 volte da questo trucco Quindi con una potenza che è paragonabile a quelle delle vecchie lampadine che avevamo tutti in casa adesso con questo recupero di potenza si possono realizzare queste emissioni di laser che vanno avanti centinaia di volte avanti e dietro e poi vengono ripresi Sì, la potenza luminosa che circola nei due bracci è a livello del megawatt che è una cosa molto molto notevole è piacerebbe anche a me con 100 watt riuscire a illuminare e questo grazie appunto alla risonanza ottica cioè a questo laser che continua ad andare avanti e dietro è come se noi avessimo una casa piena di specchi quindi un po' meglio, specchi un po' migliori del genere di casa Mi ha molto colpito il colore delle campane che ricoprono gli specchi e i laser è quasi un colore ramato c'è un motivo per cui non è un metallo diciamo normale perché sembra quasi fossero di rame Sì, è vero perché tutte le parti di acciaio inossidabile che costituiscono l'involucro del nostro sistema no vuoto quindi le campane alte 12 metri e 2 metri di diametro e i tubi lunghi 3 chilometri di 1,20 metri di diametro tutti gli elementi che costituiscono queste parti sono stati riscaldati dentro un forno per una settimana a 400 gradi in questo modo cosa si ottiene? Si ottiene il fatto che quel poco di idrogeno che è contenuto nello spessore dell'acciaio inossidabile aumenta moltissimo la sua mobilità esce e si mette in equilibrio con la percentuale di idrogeno che c'è nell'aria circostante in questo modo eliminiamo quasi tutto l'idrogeno contenuto nello spessore dell'acciaio inossidabile e questo è importante perché quando si fa il vuoto una volta raggiunte pressioni dell'ordine di un miliardesimo di atmosfera l'idrogeno contenuto nella parete di acciaio inossidabile costituisce una sorgente di gas che impedisce alla pressione di scendere ulteriormente mediante questo trattamento che ho appena descritto eliminato questo idrogeno la pressione riesce a scendere facilmente fino al valore che a noi serve che è di 10 alla meno 12 atmosfere vale a dire un milionesimo di milionesimo di atmosfera quindi in pratica se non si facesse questo è come se l'acciaio fosse una spugna e quindi di idrogeno e quindi nel momento in cui noi togliamo l'aria fino a quel livello, a quella micro atmosfera l'idrogeno verrebbe strappato via dall'acciaio in realtà è una cosa meno drammatica non possiamo dire strappato via è semplicemente che l'idrogeno con la sua mobilità la diffonderebbe dalla superficie del contenitore interno del contenitore in acciaio inossidabile e quindi entrerebbe nel tubo a vuoto e quindi interferirebbe con il laser esattamente e qui veniamo alla questione del colore che lei diceva l'acciaio inossidabile è sì inossidabile ma se uno lo riscalda a 400 gradi si formano sulla superficie dell'ossido di cromo che ha quell'aspetto che lo rende simile al rano o al bronzo oltre ai movimenti tellurici di cui noi normalmente non abbiamo sensibilità che invece per questo tipo di impianto estremamente sensibile sono un rumore intollerabile nella misurazione di quali altri fenomeni tiene conto l'impianto che noi normalmente non conosciamo di cui semplicemente non teniamo conto? sono diversi i problemi di cui noi dobbiamo tenere conto vista l'estrema precisione di cui abbiamo bisogno uno per esempio è quello dovuto alle maree terrestri normalmente tutti sappiamo che la superficie del mare sale e scende due volte al giorno a causa della trazione della luna e del sole ma non tutti sanno che anche la crosta terrestre ha movimenti molto simili e movimenti molto più ampi di quanto uno si aspetterebbe ad alcune latitudini la superficie del terreno sale e scende due volte al giorno di ben 50 cm e comunque questo non sarebbe un problema se il nostro interferometro salisse e scendesse indisturbato di questa quantità il problema viene dal fatto che quando la superficie terrestre sale si dilata anche un pochino quando scende si comprime e queste variazioni di lunghezza su 3 km per chi costruisce un'autostrada o un ponte sono del tutto trascurabili perché su 3 km abbiamo allungamenti o accorciamenti di 100 micron però 100 micron sono milioni di milioni di volte di più di quanto sia l'effetto di dilatazione dovuto alle onde gravitazionali pertanto noi dobbiamo compensare questo comportamento della superficie terrestre e lo facciamo mediante dei sistemi di bobine e magneti che sono attaccati alla piattaforma superiore della catena di sospensione con cui sosteniamo gli specchi e muoviamo il punto di sospensione della catena di pendoli in modo da compensare esattamente quei 100 micron avanti e indietro giornalmente due volte al giorno anzi un'altra cosa è per esempio il problema della temperatura degli specchi tutto il nostro sistema meccanico e ottico naturalmente ha bisogno di essere stabilizzato in temperatura perché qualunque cosa dipende dalla temperatura comunque è sufficiente stabilizzare quindi condizionare l'area e il volume interno dell'edificio da cui partono i fasci laser e degli edifici terminali in cui si trovano gli specchi che rimandano indietro i fasci laser è sufficiente stabilizzarli a livello di qualche decimo di grado viceversa gli specchi stessi dove ricevono il fascio di luce che si riflette assorbono una quantità minima perché sono degli specchi veramente molto buoni però assorbono a livello di qualche parte per milione che è di nuovo per la vita di tutti i giorni sarebbe una cosa del tutto trascurabile per i nostri specchi non lo è perché questa piccolissima potenza assorbita produce una deformazione termica della superficie dello specchio che deformerebbe la forma del fascio del laser e quindi produrrebbe una dispersione che sarebbe intollerabile per ovviare a questo problema cosa facciamo mentre la parte centrale dei nostri specchi è riscaldata dal laser che a noi serve per le misure noi riscaldiamo anche la parte esterna dello specchio con un laser infrarosso ausiliario in questo modo tutta la superficie dello specchio sia quella dove si riflette il fascio del laser sia quella attorno vengono riscaldate alla stessa temperatura e qui naturalmente parlo di decimi di grado, non parlo di centinaia di gradi però nel nostro caso, vista la nostra sensibilità è assolutamente necessario fare questa compensazione e in questo modo manteniamo la superficie degli specchi del tutto invariata e quindi la forma del fascio del laser indisturbata ringrazio il professor Carlo Bradaschia dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per questo secondo tour dell'impianto Ego Virgo di Cascina l'interferometro che viene definito il righello più preciso del mondo in grado di misurare una differenza di distanza di un millesimo di un atomo per avere un po' l'idea grazie per averci spiegato anche tutte le problematiche tecniche che sono dietro questo impianto e anche un po' averci fatto capire la ricaduta sul mondo reale che possono avere la risoluzione di queste problematiche che porteranno a un vantaggio quindi per le industrie e poi per nuovi prodotti e nuove tecnologie di cui potremo usufruire Mi ha fatto molto piacere la vostra visita e come sempre noi siamo molto, non solo disponibili ma cerchiamo di incrementare le visite di questo tipo come anche le visite di scuole fra l'altro mentre eravamo qui a fare questa intervista chiamiamola abbiamo visto una classe di una scuola che è venuta a visitare Virgo quindi di nuovo noi siamo molto contenti di questo e speriamo di migliorare, di completare il miglioramento dell'interferometro che è in corso in questo momento e di iniziare a prendere dati a settembre quindi fra sei mesi circa con una sensibilità maggiore e quindi di avere la capacità di rivelare forse più di un evento al mese grazie grazie grazie